Sono i regali, sono a zero, ma ne ho parlato di qualcosa che ci sono più, sono state qualcosa che ci sono più, qualcosa che mi piace? No, mi è piaciuto davvero molto poco, non siamo riusciti a esprimerci, partendo dalla battuta, di solito è un fondamentale che interpretiamo molto meglio, soprattutto battuta e ricestione, sono state le due cose che questa sera ci hanno pesato contro e hanno pesato a favore del BACIF, più non siamo state brave a gestire il vantaggio del primo e del secondo set con errori stupidi e non siamo riusciti a cambiare l'inerzia della partita. Bisogna trovare l'energia per alterare, dobbiamo cercare adesso, questa sera, di provare a farlo, anche se è difficile perché sono squadre emotive e quindi bisognerà cercare già domani di fare un'ottima gara perché c'è una medaglia in palio e perché già venerdì cominciamo le finali. Avete sofferto nel primo set forse il cambio Bois-Hill? Sicuramente loro rispetto a noi hanno una panchina diversa, l'ingresso di Hill ha cambiato decisamente la gara, Hill ha fatto una grandissima partita, brava! Guardando la distribuzione, soprattutto nel secondo set, Scorupa ha insistito tantissimo con Mihailovic. Troppo o era preparata così? Un po' troppo. Diciamo che i centrali c'erano situazioni dove potevamo usarli meglio.